se la volete regalare ricordo a tutti che se vi viene regalata la sub essendoci il september potete rinnovarla per un solo dollaro quindi vuol dire che avete due mesi di sub a 6 dollari antiche 12 pagato tentare sarebbe veramente utile come ma non ma puoi farvi due mesi diretto il secondo mese da quando te la regalano e me l'hanno regalato dal marzone io subito l'estesa ne ho approfittato ho fatto anche dallo zanone non pensavo fosse avesse sulla logica infatti no invece funziona c'è un tizio brutto sul testo io ho trovato un trovato una cassa sto prendendo la cassa ho trovato lancia granate c'ho il medico li sto bloccando tutti dall'entrare non lo vedo è incredibile no ragazzi ha trollato ma che sta facendo questo coglione qua queste non vale ho quitato queste non valgono nelle best questo schifo marzo non sempre lo spara mi ha cambiato arma mi ha cambiato arma vuota poi ha tancato tutti e lo so io ecco perché allora prova a portarla avanti o reset io tu uscito proprio gioia se volete la casa e poi detto no dipendere da te c'è te ci metti tanto che vedi che la stai vincendo e non c'è la pari della merda è sempre ora vado a prendere il piano in gola a qualcuno con questa schede c'è il culo più bello di tutto forno non ci sono cazzo pensa il quattro verzo ma il culo di questa schede che non gli sto planando a quelli gioco guarda le orecchie proti ma io li lascio ora a meno non me ne sono ma è vero sono flippando io le vedo che flippano questa challenge ma neanche neanche un colpo da lontano ha preso non ha capito un cazzo la testa del pomodoro che ti osserva ragazzi e not a single pack was given that day trano questi pensavano di trovare un giocatore normale invece danni che fa ora inflitto su 700 mila mi sa che me lo tengo però lancia cazzate forte lancia cazzate può essere fatica se ce l'hai aggiornato un povero visto tipo una clip tua di un tizio che ti ha citto contro che faceva tipo scariche di hs ma io l'avrei pure ammazzato se non mi avesse tirato 4 hs di fila perché li ho visto quello riesce attaccato sulla e lo spaventato oddio non mi ha visto non mi ha visto credo è uno schema divertente nazi c'ho paura di ritrovare quel tizio infatti appena siete attaccato con l'eltaplano ti pum un hs pulitissimo ehi ok c'è caduto nel cratere ma può essere il merda non ha un cazzo da fare è bello che si diverte ma ti ha dato anche ma perché c'è ma è matto pensava fossi tipo una cosa d'attacco questa granata oro oh eccolo ma l'ho morto teoricamente se esco dovrei aver completato quell'altra cosa una sola è a destra una cosa sotto la colonna di destra no 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 da non vogliamo riuscire se l'uomo lo picconi no mister tartaruga eseguibile stavo stavo vedendo cosa faceva questo tizio ma mamma mia lo potevi picconare benissimo ma erano dei poracci questi c'è birra poracci proprio altro che birra puretti avevano tipo due di questi forti ma non aveva avevano luttato la merda ragazzi non avevano niente manco i materiali devo fare questa qua delle bombe ragazzi per amico guido rimo tutti riducati che vuoi oppone in tutto tutto no devo fare dei danni con l'eclossi dice marza mi bullizza domani su youtube capirai che con onda ascolto a ciccio gamer e vince la partita e la madonna che cazzo quella è la bastiglia che cazzo è tutto che cazzo è tutto devo prenderci qua eh no ho flesciato oh ma raga io ho flesciato ma ci sento ovunque tutte quelle foglioluzze degli alberi il problema della stellina è che devo fare è quell'altro di imbutare il material soli power ma ancora spara a tutti non è f***** eh no ma perché non sanno dov'è è tutto silenziato lui va a f***** ecco questo no anche loro si dà è finito tranqui tranqui che cazzo è stato finito è tratto in fx skill mode dai che ti perdono bro dai che ti perdono dai che ti perdono qui tu fai la giramento alla zana non può sapere che sei qui ho visto Lorenzo il cespuglio tuo amico secondo ragazzi condorello lo dobbiamo prendere buono sfruttiamo la situa eh se gli planano nell'ano se gli planano nell'ano io sono felice vai sulla punta del cucuzzo e le rompi il curo in cima alla bastiglia in cima alla bastiglia Nalve cazzo cazzo ne tolto 90 e un'altra fate usi è la pedana una pedana una pedana Si è spaventato con lo shock speriamo che entri dove c'era la vecchia trappola Dove è andato sta picconando la montagna per farti cadere No Angeli si vuole notare il zezza Uuuuuh Era l'altra casa Lo so Cosa ci fanno lì? Ok 3 sono sti scemi qua e quello lì è l'unico da solo Cara bro, thank you very much for the beat Dai bravo vai a sacrificarti What? L'hanno preso in pieno? Eh? E' vero l'hanno preso quello che hai sparato l'ha preso Non ci credo Si è sacrificato davvero Si è rientrato nel bunker Tipo trincea di capole E muori Ma voi Occhio al cecchino se nella montagna a sinistra eh bro No lo so tutte tutte Non ha capito un cazzo Ragazzi questo ha dimenticato il TomTom Quello ha dimenticato il TomTom Si si No ha comprato il Garmin Aspettate che non riesco a sentire Non lo so Non lo so Ti fai di buttare il piccone Ragazzi questo è palesemente Marza Gianco Deluci penso io Cioè Terminati Lo stavo dicendo io Lo stavo dicendo io Lo stavo dicendo io Dimmi tu Gigi Adesso io faccio tipo Visualizza statistiche Cioè tutto a zero Non ho fatto niente Cioè 26 metri e basta E' solo questo Ragazzi ci penso io Punto esclamativo Tra parentesi Deluxe Ma ci ha pensato davvero lui Non abbiamo fatto Io non ho fatto un cazzo Io non ho fatto un cazzo No 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 Sono sceso e sono morto Marta è sceso per fare una challenge Per fare una challenge Per fare un paramato No 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 ho fatto il quarte